Ecco il giro ripartirà da Rovetta martedì ma Rovetta è già in sella da domani con una bella festa. Sì, allora domani abbiamo ideato la festa, la nostra festa di primavera che è già qualche anno che la si fa in collaborazione con l'amministrazione comunale e abbiamo fatto questa festa di primavera aspettando il Giro d'Italia collaborando appunto con l'amministrazione e con la Proloco. È già un mese che ci stiamo dando da fare con dei preparativi in rosa dalle biciclette, dai manifesti e così via. Speriamo sempre nella beltà del tempo e speriamo che va di tutto bene. Aspettiamo anche molta gente che si svolga con tranquillità. Ci saranno mercatini, ci saranno espositori. L'amministrazione ha pensato alla partecipazione con degli espositori di biciclette. Ci sarà anche una serata dedicata a dei campioni della zona da Paolo Savoldelli a Rota di Crusone e tanti altri che sono sempre atleti ciclisti della nostra provincia. Quindi domani festa di primavera a Ravetta ma anche una festa delle due ruote, una occasione per stare insieme, per mangiare qualcosa ma anche per tante occasioni di intrattenimento. Sì, ci saranno appunto come ripeto giochi per bambini, quei classici giochi di una volta in legno e anche altre attrazioni per aspettare appunto questo martedì, questo Giro d'Italia che partirà da Ravetta, visto che non è una cosa di tutti i giorni, di tutti gli anni, ci sarà un po' di... si spera molta gente che animi un po' in questi giorni sia a Ravetta che tutta la zona intorno. Ecco, Ravetta sta lavorando da tempo questo grande appuntamento, lo abbiamo già detto, ma è bene ricordare che comunque ci saranno dei divieti, delle interdizioni al traffico. Sì, su questo dobbiamo chiedere un po' la pazienza, la collaborazione di tutti i rovettesi perché da lunedì pomeriggio con l'installazione del villaggio presso il centro sportivo e scolastico verrà vietato il transito sulla parte alta di Viale Papa Giovanni. Comunque lunedì le scuole saranno aperte e anche i pullman potranno regolarmente andare e venire dalle scuole sia elementari che dalle medie. Mentre da martedì mattina alle 5 verrà chiusa tutta via Papa Giovanni, via Fantoni, anche la piazza Ferrari e via Magri sarà chiusa perché la carovana si metterà in centro. Mentre anche per andare verso San Lorenzo, cioè via Chiese e via Montale, fino a prolungarsi al centro sportivo di San Lorenzo verranno messe tutte le ammiraglie e i mezzi, pullman e quant'altro che però già dalla mattina alle 9 e mezza poi prenderanno la strada per Bormio. Pertanto ecco quella mattina lì chi ha la necessità di doversi spostare dovrà fare attenzione alle chiusure delle strade in modo particolare da un'ora dalla partenza del giro che partirà alle 10 e mezza via Fantoni e anche tutta via Vittorio Veneto fino al Ponte Vecchio che porta a Son Gavazzo sarà impossibile transitare, non sarà possibile neanche fare nessun tipo di deroga salvo questioni di soccorso. rimarrà comunque sempre transitabile e accessibile la nuova strada, la variante Fiorina e Rovetta, la rotatoria nell'agro con la strada che continua verso Castione, quindi quell'asse principale Castione e Clusone sarà comunque sempre aperto e accessibile. Ieri sera qui a Rovetta presso il centro museale si è tenuta una serata dedicata a un'attività di un rovettese all'estero. Sì, è un mio cugino, un marinone Giuseppe che è andato 52 anni fa, è andato là a correre una corsa a tappe che ha vinto e si è fermato là, ha fatto l'emigrante, una fabbrica di biciclette e diciamo si è imposto benissimo. E quindi è stato ricordato con... Ha fatto un po' il scorso della sua vita, tutte le sue traversie, andata, ritorno, lavori e compagnia bella.